Buongiorno a tutti e ben ritrovati questa mattina per un nuovo appuntamento con le Digital Breakfast, un appuntamento che credo avrà incuriosito parecchi di voi, visto l'argomento, ovvero Bitcoin e altre criptovalute, una materia che per certi versi è ancora sfuggente, però dall'altro lato è anche incredibilmente concreta, una specie per quelli che ci stanno credendo e stanno investendo qualche somma e ne conosco tanti anche in Edison. Ne parleremo con Ferdinando Ametrano, che è il CEO di Chexig, che è una società che propone soluzioni Bitcoin e cripto per i vestitori privati e istituzionali, nonché professore all'Università Bicocca in queste materie, Bitcoin e Blockchain Technologies. Buongiorno Ferdinando e grazie davvero per essere qui con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, scusate rimuto. Allora, si tratta anche di un ritorno tra l'altro in Edison, Ferdinando, è un piacere riaverti qui, considerato che appunto qualche anno fa avevi tenuto in San Zionisti in Foro Buonaparte proprio un seminario sui Bitcoin, un seminario diciamo da pioniere, direi, nel senso che all'epoca erano, era credo il 2017-16, veramente erano i primi tempi in cui si cominciava a parlare di Bitcoin e tu eri diciamo uno dei pochi che aveva, almeno uno dei pochi accademici, non so se definirti così già allora, però insomma uno dei pochi esperti che già da allora insomma aveva creduto in questa in questa tecnologia, in questa innovazione, in questo in questo diciamo tipo di di moneta virtuale. Già all'epoca appunto c'era stato questo seminario che era stato organizzato dall'area R&D e in particolare insomma in quell'area c'era anche Angela Casertano che poi è stata il mio tramite anche per organizzare questo appuntamento di oggi ed è per questo che abbiamo anche il piacere di avere con noi Angela che a cui lascio la parola appunto che farà un'introduzione di Ferdinando conoscendolo anche anche personalmente. Ciao Angela, te la parola. Ciao, buongiorno a tutti, grazie. Prima di tutto grazie Ferdinando per aver accettato questo invito e restosi disponibile per questo incontro. e andando al titolo Bitcoin tra finanza e Far West vorrei darvi una chiave di lettura anche di come approcciarci a questa ora e come renderla più interessante. Aggiungerei a questo titolo appunto tra leggenda e realtà, cioè oggi a distanza di dieci anni da quando è nato il Bitcoin poi nella prima volta che sono state appunto si è citato, si è parlato di Bitcoin, qual è la verità se siamo giunti ad una verità, cioè partirei proprio con una domanda a Ferdinando, cioè in questi anni che hai studiato la blockchain e Bitcoin, che cosa ne trai di questo insegnamento e di questa ricerca? Ed è questo anche la sfida che lancio a tutti i partecipanti, cioè per voi sentendo le parole di Ferdinando, che cosa, che idea vi fate e se pensate che il Bitcoin è veramente la nuova valuta del futuro o del presente o pensate che sia un'ennesima truffa. Buona giornata a tutti e buon incontro, grazie Dario, grazie Nando. Allora, io partirei dalla provocazione di Angela, no? Gianluca Zerbini ci segnala che lui non sente l'audio, spero sia solo un problema suo personale, magari se qualcun altro invece conferma che sente l'audio, tanto meglio, ma il tema, Angela l'ha messo anche appunto in un'impostazione, dire, quasi esistenziale, che mi piace molto anche perché mi, scusate se parto da un aspetto quasi aneddotico, ma quando io scopro Bitcoin nel 2014 sono convinto che si tratti di una truffa, ero all'epoca responsabile del FinTech di Banca Imi, l'investment bank del gruppo Intesa San Paolo e in qualche maniera vengo incoraggiato ad affrontare l'argomento, parto con un grande scetticismo, in realtà nei tre mesi successivi, studiandolo curiosamente, mi convinco che siamo di fronte a qualcosa che potrebbe cambiare, lo dico chiaramente, la storia dell'umanità. E allora una frase così così piena, così tronfia, perché? Perché evocava ancora questa scoperta dei ricordi personali molto forti. Io nel 92-94 ho iniziato a scoprire, a utilizzare internet e mi sono reso conto, mi resi conto all'epoca che quell'internet, che era un internet dell'informazione, avrebbe cambiato la storia. Certo, non potevo all'epoca immaginare i business basati su internet come Facebook, Google, Amazon o Netflix, perché non ne avevo i metodi, le capacità culturali, ma quando ho incontrato Bitcoin ho intuito che Bitcoin potesse essere un internet del valore, non più un internet dell'informazione, ma un internet del valore, e in quanto tale la capacità di poter trasferire valori in maniera istantanea, incensurabile, inconfiscabile, senza costi transazionali significativi, che questa cosa genererà, creerà in futuro dei cambiamenti altrettanto epocali. E quindi provo a lanciare una prima definizione con cui poi possiamo confrontarci tutti insieme, ma anche perché io incoraggio anche che arrivino domande a cui o rispondo immediatamente o rispondo nel corso della conversazione insieme con Dario e con tutti voi. Bitcoin è per la prima volta in ambito digitale un bene trasferibile ma non duplicabile. Io posso mandarlo a Tizio, ma lo stesso Bitcoin non lo posso mandare anche a Caio. e quindi rappresenta l'esperimento di creare la scarsità in ambito digitale. E voi direte, questo perché è importante? Beh, faccio due paragoni. Uno con l'oro fisico. Riflettiamo sul paradigma della scarsità in ambito fisico, incarnato dall'oro. È evidente il ruolo che l'oro fisico ha avuto nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza. L'oro digitale potrebbe essere dirompente nell'attuale civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza. E poi perché la scarsità in ambito digitale è fondamentale affinché qualcosa abbia valore. Pensate per un attimo alla Gioconda. Bellissima, o almeno in tanti la ritengono tale, ma ha un valore di mercato gigantesco perché è unica. Se fosse duplicabile in miliardi di copie identiche resterebbe bellissima ma il suo valore di mercato croirebbe a zero. Quindi la scarsità in ambito digitale è l'unica possibilità che abbiamo perché è un bene digitale acquisti valore. E allora capite che Bitcoin potrebbe veramente essere un punto di svolta del mondo così come lo conosciamo. Allora grazie mille Ferdinando, grazie anche Angela per l'introduzione. Quindi insomma da quello che ci hai detto Ferdinando, ovvero che appunto Bitcoin è un po' un tentativo, un esperimento di creare la scarsità di un bene digitale in qualche modo. a me personalmente questo fa pensare che Bitcoin più che essere una valuta in senso stretto, cioè un come dire uno strumento, un mezzo di scambio di valore sia piuttosto un diciamo qualcosa di simile a loro, qualcosa di più simile a una riserva di valore, un bene rifugio. È una considerazione che diciamo ha un fondamento questa. Certamente sì, è chiaro che noi ci muoviamo su terreni che non sono ancora stati pienamente esplorati, ma se guardiamo al paragone con l'oro fisico ci aiuta molto. L'oro fisico è stato per secoli utilizzato come moneta, non ha innescato lo sviluppo di tutti i sistemi monetari che conosciamo, badate che è stato riconosciuto da tutte le civilizzazioni con una buona forma di moneta senza alcuna pianificazione centralizzata, tutte le civiltà lo hanno indipendentemente scoperto. Dicevo, ha innescato lo sviluppo di tutti i sistemi monetari che conosciamo, è stato sorpassato da monete più evolute senza per questo diventare obsoleto. A mio avviso questo è quello che sta succedendo, che comunque potrebbe succedere a Bitcoin, cioè un oro digitale senza dubbio utilizzabile per i pagamenti, ma chi ci ha pagato, fatto veramente accaduto, due pizze nel 2010, 10.000 Bitcoin, cioè ai corsi attuali 200 milioni di dollari, quelle pizze deve averle trovate piuttosto indigeste. Quindi l'utilizzabilità come moneta non ne fa una buona moneta. Poi quelli come me vedono in Bitcoin soprattutto invece appunto un bene rifugio. L'attuale crollo dei corsi sui mercati dice che la mia visione non è evidentemente maggioritaria, perché tanti invece lo ritengono un bene speculativo. Però insomma siamo esattamente in quel momento storico in cui la confusione tra moneta, bene di investimento fortemente speculativo, piuttosto che oro digitale e bene rifugio è ancora grande. D'altronde questa confusione è l'opportunità per chi si chiarisca le idee in un senso o nell'altro di prendere una posizione e poi di beneficiare da questa posizione, se è una posizione corretta. Io, proviamo a farlo oggi anche insieme, ne aggiungeremo altri elementi, continuo a dire che Bitcoin potenzialmente rappresenta l'equivalente digitale dell'oro. Quindi preferisco quasi che sia visto come una crypto commodity, una materia prima, che non una cosiddetta cryptocurrency, cioè una valuta. Molto chiaro, molto chiaro. Allora, faccio una piccola nota tecnica, perché mi è arrivato un commento di Gianluca Zerbini che mi dice che non sente l'audio, però presumo che l'audio si senta perché vedo collegate oltre 90 persone per cui dovrebbe sentirsi, però fatemelo sapere se per caso non si sentisse. Dopodiché vi ricordo che, come sempre, potete mandare le vostre domande attraverso la sezione Q&A, la sezione Q&A che ho trovato in alto e appunto le vostre domande poi verranno riportate a Ferdinando. Allora, Ferdinando, io farei un passo indietro, anche diciamo tornando un po' alla tua esperienza personale e al tuo rapporto con Bitcoin, perché, diciamo, lo trovo sicuramente molto interessante. Tu sei un fisico di formazione accademica, dopodiché, diciamo, hai lavorato per tantissimi anni, credo almeno una ventina d'anni, nelle, diciamo, nelle grandi banche d'affari occupandoti di finanza tradizionale, no? A un certo punto hai avuto una folgorazione per Bitcoin, da appunto persona che in qualche modo, diciamo, proveniva da un mondo quasi antagonista. Adesso non so se è corretto definirlo così. Cos'è successo? Ci racconti un attimo che cosa è successo, cosa hai visto, cos'è che ti ha folgorato? Ma, come accennavo all'inizio, pensavo Bitcoin fosse una bufala, uno schema di ponzi, e quindi cercavo di capire analiticamente dov'era il punto debole, poter dimostrare che questa era una truffa, era diventata, in un certo periodo, appunto, febbraio-marzo 2014, una specie di ossessione. Nello studiarlo, però, la mia opinione è gradualmente cambiata. Il primo contraccolpo, il primo baluardo che è crollato è quando io, appunto, come dicevi tu, dopo 20 anni nel mondo delle banche di investimento. Io, che però non sono un economista, sono un fisico di formazione, mi sono reso conto che non sapevo spiegare, non sapevo rispondere alla domanda su cosa fosse la moneta. E qui la lancerei veramente provocatoriamente anche a chi ci sta seguendo. Voi sapreste definire cos'è una moneta? Allora, permettetemi una parentesi di 3-4 minuti, eh? Se posso, se posso, lancio questa domanda, rilancio questa domanda a chi ci sta seguendo. Chi volesse rispondere, lo scriva nei commenti. Lo scrivetelo e così lo commentiamo insieme. Ma io cercavo di riflettere su cosa fosse la moneta e sconvolto dall'idea di non saper rispondere, ci penso, ci penso, ci penso, dopo qualche settimana o quella che all'epoca mi sembrava un'idea geniale, capisco, intuisco che la moneta è uno strumento di relazione sociale. Ovviamente come tutte le mie idee più geniali, da lì a poco avrei scoperto che qualcuno più geniale di me l'aveva intuito qualche secolo prima di me, in questo caso un certo Adam Smith nella ricchezza delle nazioni. Cosa intendiamo io e Adam nel dire che la moneta è uno strumento di relazione sociale? E intanto faccio notare che risposte non mi arrivano, quindi che cosa sia la moneta evidentemente non è patrimonio comune. Intendo dire che tutti quanti, io, Dario, Angela, ma anche voi che ci ascoltate, siamo nati, ecco, bravo Emanuele, unità di scambio equivalente, ma ci arriviamo, siamo nati in quella che chiamiamo, possiamo chiamare l'economia del dono. Nessuno di noi ha pagato per le cure parentali ricevute da mamma e da papà. L'economia del dono si allarga alla famiglia, agli amici, ai vicini, lasciatemi dire financo alla tribù, ma quando incontriamo qualcuno che sostanzialmente non conosciamo, non ci fidiamo di lui, allora ecco che l'economia del dono non scala. e allora abbiamo avuto necessità di inventarci un'economia cosiddetta di scambio, prima attraverso il baratto. Se io do le mie uova a Dario e Dario vuole darmi il suo latte, sarà il caso che io voglio il latte, voglio il latte di Dario e voglio il latte di Dario oggi. Quindi evidentemente, evidentemente, c'è il problema della cosiddetta coincidenza dei bisogni. Allora badate per disintermediare nel tempo e nello spazio il problema della coincidenza dei bisogni, abbiamo inventato la moneta. La moneta è quindi una invenzione a base della quale c'è tutta l'economia dello scambio, quindi giusto chi ha detto la moneta a mezzo di scambio, che ha fatto fiorire il commercio internazionale. E allora badate che qui io ai miei studenti chiedo sempre un momento di commozione intellettuale, cioè che la moneta sia quello strumento inventato dagli esseri umani per cooperare con coloro di cui non ci fidiamo o che non conosciamo è qualcosa, a mio avviso, di straordinario. Dice che noi siamo degli animali talmente sociali, talmente socievoli da voler cooperare, collaborare, commerciare anche con i nostri nemici. Questa è una cosa importante, anche se pensiamo alla guerra russo-ucraina, tutto sommato, avrebbe delle implicazioni, ma non è questo il tema o il momento per trarle. E allora lasciatemi fare una veloce storia della moneta. L'oro viene riconosciuto come prima forma di moneta da tutti perché è scarso e perché luccica. A noi esseri umani piacciono le cose che luccicano, l'oro però è l'unica cosa che se fate fondere in un paiolo quando si raffredda continua a luccicare, tutto il resto smette di luccicare. E allora però ecco che andarsene se prima di ogni transazione commerciale io e Dario per verificare la purezza dell'oro dovessimo accendere il fuoco sotto un paiolo e attendere appunto la fusione e poi il raffreddamento non ci passa più e allora abbiamo chiesto al sovrano di coniare la moneta, cioè di mettere la sua effigie, la sua facciona sulla moneta d'oro per garantirne il contenuto aureo. Grandi fallimenti storici, storie di inflazione ma anche grandi successi, pensiamo appunto al fiorino noto in tutto il mondo per il pregio proprio del suo conio. Se però io e Dario mercanti medievali andiamo in giro con un sacchetto di monete abbiamo due problemi, uno per non sottostimare, badate, che l'oro pesa tanto e quindi è difficile trasportare, ma poi il secondo che intuiamo benissimo è il rischio di aggressione fisica, di violenza, no? E di conseguenza ecco che dalle due sponde dell'Atlantico, quelle che sarà, scusate, della manica, gli orifici londinesi e quelli che diventeranno i banchieri italiani hanno più o meno la stessa idea, dicono ai mercanti lasciate le vostre monete presso i nostri forzieri, noi mettiamo delle note di banco, delle banconote e con queste potete tornare in qualunque momento a redimere le riserve aure presso i nostri forzieri. Peccato che non lo fa quasi nessuno, le banconote decollano, al massimo un 10-15% vengono redente per l'oro nei forzieri e quindi i banchieri hanno questa idea, dicono che cosa succederebbe se emettessimo più banconote dell'oro che abbiamo nei forzieri? Caro Dario, la risposta è non succede niente, non se ne accorge nessuno. Ed è un bestiere, capirete, è bellissimo poter stampare carta moneta a fronte di nulla, dal nulla e poter comprare beni e servizi. Quello che succede è che a un certo punto il sovrano se ne accorge, mette un braccio sulla spalla del banchiere centrale e dice beh, aspetta, il tuo bestiere è talmente bello, talmente straordinario che da oggi in avanti tu lo puoi fare solo e soltanto con me. Nasce l'alleanza tra banchiere e sovrano che resterà indissolubile fino ai giorni nostri, tranne che 1971 tutte le valute non sono convertibili in oro ma sono convertibili in dollari, il dollaro è convertibile in oro e quindi potenzialmente tramite questo doppio cambio si potrebbe andare verso l'oro, Charles de Gaulle dice a Bank de France di raccogliere tutti i dollari sul territorio francese di chiederne la convertibilità aurea, Nixon che ritiene questo una specie di attentato terroristico per bloccare questo tentativo sospende badate temporaneamente la convertibilità aurea del dollaro tranne che poi ci sono dimenticati di revocare il decreto e quindi dal 1971 nessuna valuta è più convertibile in oro. Da allora il debito pubblico di tutti i paesi è schizzato in alto perché ovviamente se si può stampare moneta senza avere nessuna garanzia è difficile resistere a questa tentazione ecco che oggi nella storia all'improvviso abbiamo una moneta come bitcoin non inflazionabile certo non è una buona moneta abbiamo detto è più oro digitale ma chissà che nel futuro della moneta non ci siano monete private che useranno l'oro digitale come bene di garanzia proprio ritornando a una specie di gold standard rinominato in una specie di bitcoin standard se tu mi consenti Dario Giuseppe chiede la forza variazione del prezzo delle cripto come si concilia con l'idea di bene rifugio ma rispondere velocemente si concilia col fatto che evidentemente caro Giuseppe il mercato non la pensa come me quello che abbiamo visto negli ultimi tre anni di progressiva finanziarizzazione di bitcoin e delle altre criptovalute è l'ingresso di investitori che evidentemente lo vedono come bene speculativo e quindi quando in contesti di crisi percepiscono la necessità di vendere tutti i beni rischiosi vendono anche bitcoin fanno bene fanno male io provo a ricordare questa cosa lo scoppio della bolla dot com alla fine degli anni 90 in due anni Amazon perse il 90% del suo valore perché chiaramente quando scoppia la bolla si vendevano tutti i titoli tecnologici e tutti i titoli di internet che cosa abbia fatto Amazon da allora oggi lo sappiamo tutti si è rivalutata di centinaia di migliaia di volte decine di migliaia di volte scusate evidentemente il sottoscritto pensa che lo stesso potrebbe accadere a bitcoin se se sottolineo se ho ragione nell'individuare in bitcoin un bene scarso che sarà interessante d'altronde questa conversazione più o meno la facevamo in Edison ricordava Dario nel 2017 se qualcuno avesse investito qualcosina nel 2017 ad oggi nonostante il crollo recente non avrebbe assolutamente di chi lamentarsi è chiaro che bitcoin è un investimento a meglio lungo periodo essendo l'asset più performante dell'ultimo decennio non può che avere rischi finanziari paragonabili perché ricordate sempre che i rendimenti finanziari sono la remunerazione dei rischi quindi a grandi rendimenti non possono che coincidere grandi rischi la volatilità peraltro e concludono la risposta a Giuseppe la volatilità di bitcoin peraltro è proprio fisiologica pensando ad Amazon cos'è che non si capiva alla fine degli anni 90 non si capiva quanto pervasivo sarebbe stato il commercio digitale l'e-commerce anche gli early adopter che compravano libri su Amazon non potevano immaginare che avrebbero comprato anche la musica i libri la musica e i film in formato liquido che poi persino avrebbero fatto la spesa e comprato il detersivo ecco era difficile immaginarlo allora oggi quando domande offerta si incontrano sul mercato e devono mettere a fuoco il fair value di bitcoin dell'equivalente digitale dell'oro questa è una proposizione controversa il processo di messa a fuoco è controverso cioè è volatile d'altronde queste sono le sfide dei tempi chiarissimo perdiamo anzitutto ti ringrazio perché mi semplifichi la vita direi che sei l'ospite perfetto perché non c'è bisogno neanche di farti le domande che arrivano perché le integri direttamente tu nel tuo discorso farei ancora diciamo un passo indietro prima di addentrarci poi sui temi legati al mercato che sono sicuro interesseranno una gran parte di chi ci sta seguendo però insomma farei un piccolo approfondimento legato insomma agli aspetti tecnici di bitcoin ovvero abbiamo parlato di sostanzialmente una scarsità digitale ecco come si crea la scarsità digitale e perché questo meccanismo in qualche modo sembra funzionare funziona o sembra funzionare o meglio funzionerà ancora per quanto sì allora facciamo questo approfondimento un po' masochistico e Dario ma ti seguo nel senso che tutti vogliamo capire io poi faccio guarda io direi direi però che è necessario effettivamente è un approfondimento tecnico che però in realtà penso che a una buona parte del pubblico sia in una certa misura noto però in realtà dà anche una misura dei fondamentali che stanno dietro al bitcoin e diciamo sulla base dei fondamentali penso che ciascuno possa anche farsi un'idea infatti non mi tiro assolutamente dietro però lasciami fare una battuta per alleggerire la conversazione se io vi racconto che la telefonia cellulare e gli smartphone sono un'invenzione straordinaria non tutti si preoccupano di capire come funziona la rete gsm o l'elettronica che sta in un telefonino invece di bitcoin vogliono capire tutti come funziona ma bene così facciamo questo percorso assieme allora innanzitutto alla base della tecnologia bitcoin c'è un insieme di diverse componenti sicuramente la criptografia per questo si chiamano criptovalute quindi c'è la capacità di mettere in sicurezza delle transazioni in maniera che non siano manipolabili c'è sicuramente una parte di proprio computer networking quindi tecnologia della trasmissione dei dati reti di computer quello che a volte viene chiamato anche blockchain c'è una componente però altrettanto significativa di teoria dei giochi e di teoria monetaria e vediamo come stanno insieme queste cose avrete sentito parlare sicuramente un po' tutti della cosiddetta blockchain che è un po' un termine anche generico usato per indicare tutta la tecnologia che sta dietro bitcoin la blockchain in sé catena di blocchi è una specie di libro mastro di registro contabile invece che essere un registro contabile che ha dei fogli ha dei blocchi e periodicamente ogni 10 minuti un nuovo blocco cioè un nuovo foglio viene incollato in coda a questo registro questo nuovo foglio segna tutte le transazioni note alla rete che sono state finalizzate proprio dalla trascrizione su questo registro chi le ha trascritte su questo registro potenzialmente può farlo chiunque in realtà siccome il lavoro di trascriverle anzi meglio ancora il lavoro di incollare questo foglio in coda al registro contabile è un lavoro computazionalmente molto gravoso si sono specializzati alcuni attori chiamati miner che appunto hanno investito hanno fatto degli investimenti tecnologici per avere una potenza computazionale molto alta che li mette in qualche maniera in pole position in questa attività di validatori un po' come se ci fosse un gigantesco back office distribuito nel mondo in cui tanta gente fa a gara per finalizzare l'ultimo foglio di questo registro transazionale di questo libro mastro l'ultimo blocco di questa catena di blocchi perché questi attori fanno a gara fra di loro sono pazzi no non sono pazzi hanno un incentivo economico perché su ognuno di questi nuovi blocchi su ognuno di questi nuovi fogli è un po' come se nella prima riga ci fosse una transazione che non è il trasferimento di bitcoin esistenti da me a Dario ad esempio ma è la creazione di bitcoin nuovi di zecca creati dal nulla a vantaggio di chi ha creato quel nuovo blocco cioè proprio come ricompensa per chi ha creato l'ultimo foglio di questo libro mastro chi crea quest'ultimo foglio quando lo comunica a noi altri nodi della rete altri computer collegati alla rete spera che guardando questo foglio noi lo consideriamo valido perché se noi non lo considerassimo valido noi lo accartocceremo e lo butteremo nel cestino ma se perché potrebbe essere non valido per esempio perché trascrive transazioni illegittime o transazioni non valide o transazioni che creano moneta dal nulla o transazioni che spendono due volte lo stesso bitcoin ebbene però se includessero transazioni non valide noi lo cestineremmo e nel cestinarlo chi ha fatto il lavoro di scrivere di compilare quel foglio verrebbe cestinata anche la sua ricompensa perché la sua ricompensa ricordate è contenuta in quel blocco è contenuta in quel foglio ecco che quindi questi attori questi minatori hanno un incentivo economico ad essere onesti perché i comportamenti onesti i comportamenti cooperativi sono come dire premiati molto di più di quanto sarebbero premiati anzi quanto sarebbero semplicemente puniti i comportamenti non cooperativi quindi vedete che l'esistenza di un token digitale di un gettone digitale che può essere creato dal nulla a vantaggio di chi fa questa attività di back office di validazione delle transazioni quindi l'esistenza del bitcoin è fondamentale perché la blockchain funzioni poi la blockchain funziona perché esiste internet e quindi possiamo passarci questi dati ma soprattutto anche perché usa la criptografia che impedisce che uno possa alterare queste transazioni quindi insomma è una realtà molto variegata e infatti è per questo che poi in tanti spesso la fraintendono perché è difficile trovare persone che capiscono di computer networking di criptografia di teoria dei giochi di teoria monetaria allora un po' tutti di bitcoin capiscono come dire quello che più affine alla loro componente culturale ma è un po' io dico sempre come ascoltare una sinfonia di Beethoven sentendo un solo strumento questo strumento può essere anche uno strumento straordinariamente espressivo come fosse il violino ma è chiaro che non ha la stessa resa di se suona tutta l'orchestra chiaro chiaro faccio una piccola parentesi rispetto a quello che hai detto rispetto alla blockchain in particolare perché io ricordo quando ti ascoltai all'epoca del tuo seminario in Edison ricordo che un'idea mi rimase impressa in particolare ovvero che blockchain e bitcoin fossero diciamo intrinsecamente collegati ovvero che senza blockchain non ci sarebbe bitcoin ma senza bitcoin non ci sarebbe blockchain il che diciamo sembra sembra contraddire come dire l'idea che è anche abbastanza diffusa secondo la quale la blockchain abbia oltre a bitcoin innumerevoli potenziali applicazioni invece tu sembri dire guardate che l'unica applicazione seria di blockchain è bitcoin ma io ti ringrazio Dario che tu fai presente che queste cose le dico dal 2017 in Edison poi in realtà le dico addirittura dal 2015 nel 2014 invece dicevo delle cose diverse nel 2014 credevo anch'io a una blockchain generalista che potessero sussata per altre cose ma proprio la descrizione tecnica che ho appena fatto se sono stato sufficientemente chiaro dovrebbe aver veicolato questo concetto fortissimo se non ci fosse un gettone digitale come bitcoin disponibile per remunerare i minatori cioè quelli che fanno il lavoro di validare le transazioni non ci sarebbe nessuno che si offre gratuitamente per fare quel lavoro e allora dovremmo in un'ipotetica applicazione blockchain senza bitcoin cioè senza un asset digitale nativo intrinseco a quella tecnologia blockchain dovremmo reclutare noi validatori ma quindi per reclutare per assumere dei validatori ci vuole una governance centralizzata ma se c'è una governance centralizzata perché non usare un database che è molto più efficiente un database relazionale tecnologia che scala molto benissimo piuttosto che usare una inefficiente blockchain ecco questa domanda io la faccio appunto dal 2015 e effettivamente i concederai sono passati sette anni e di applicazioni blockchain senza bitcoin non se ne vedono la blockchain scusami questa potrebbe essere un'altra domanda da fare a chi ci sta seguendo se qualcuno vuole rispondere diciamo su su quanto questa idea sia convincente su quanto blockchain possa invece avere altre altre applicazioni diciamo autonome rispetto a bitcoin adesso io mi rendo conto che dare credito a me che dico che bitcoin è oro digitale quando la maggioranza dell'umanità non è ancora convinta che dico che blockchain non ha applicazioni quando in tanti venendo che bitcoin funziona dicono ah bitcoin non ci piace però sembra funzionare prendiamo la blockchain che c'è dietro mi rendo conto che sono posizioni come si dicono contrarian no in questo mondo pieno di fake news e di charlatani che si insomma si improvvisano su diversi temi magari si fa fatica a crederle però qui ecco cercherei di mettere sul tavolo un po' una coerenza intellettuale dal 2015 delle credenziali scientifiche io insegno bitcoin blockchain technology dal 2015 in Bicocca e adesso anche in altre università italiane e europee ho lasciato una posizione da dirigente nel principale gruppo bancario italiano per mettermi a fare l'imprenditore a 48 anni prima col digital gold institute istituto di ricerca e formazione consulenza e sviluppo e consulenza e ricerca e sviluppo consulenza e training e formazione che peraltro organizza una conferenza annuale con la commissione europea quella del crypto asset lab insomma anche con una certa capacità di interloquire con regolatori e poi mi sono messo a fare l'imprenditore come dicevo dall'inizio con check sig insomma se non altro dico quello che penso e poi faccio anche quello che dico ripeto Bitcoin è un esperimento ardito in quanto esperimento potrebbe fallire per questo è ragionevole investire quella quantità del proprio patrimonio di cui si può ragionevolmente sostenere la perdita o almeno delle minusvalenze significative per lunghi periodi però badate a una struttura logica culturale tecnologica funzionale molto forte e che dice di qualcosa che possiamo capire intuire e potremmo anche forse verificare proprio nei prossimi anni no nel frattempo arrivano arrivano insomma commenti o domande allora questa di Bernardo Perrone si ricollega alla domanda sulla blockchain e gli smart contracts su blockchain allora gli smart contracts in generale tutte le valute digitali anche bitcoin hanno delle condizioni di spendibilità che possono essere più complesse del fatto che io Ferdinando firmo quindi autorizzo una transazione con cui mando bitcoin a Dario i bitcoin possono essere associati a condizioni di spendibilità più complesse per esempio dimostrare la conoscenza di qualcosa oltre che firmare e la capacità di firmare una transazione ma in particolare gli smart contract vivono su una piattaforma chiamata Ethereum che è un po' concorrente alternativa o possiamo vederla come complementare a bitcoin ed è una piattaforma che ha proprio l'idea quella di invece che essere un scarsità in ambito digitale oro digitale di essere una piattaforma di come se fosse un grande super computer programmabile dove soprattutto si possono programmare proprio i cosiddetti smart contract che quindi sono dei programmini in cui alle verificarsi di certe circostanze avvengono delle altre cose e questo è straordinario perché permette di implementare il cosiddetto delivery versus payment cioè quel paradigma del commercio internazionale agognato e sognato in cui un pagamento è contestuale alla consegna di un bene e la consegna di un bene contestuale al pagamento su Ethereum tramite gli smart contract è possibile dire quando io pago in Ether ottengo questo bene digitale quando io ottengo questo bene digitale in quel momento pago in Ether i due fatti coincidono il tema però qual è che questi beni digitali scambiabili sulla piattaforma Ethereum sono ad oggi per chi ha memoria del passato ICO cioè tutte truffe per chi ha memoria del presente NFT magari dopo ne parliamo tutte cose però più o meno a mio avviso implausibili e inoltre Ethereum è una piattaforma tecnologicamente abbastanza fragile ad oggi quindi non scommetterei sul suo futuro detto questo però c'è proprio questo c'è Bitcoin che è scarsità in ambito digitale e demanda a layer 2 cioè come dire soluzioni tecnologiche costruite sopra Bitcoin l'implementazione di smart contract più o meno sofisticati e invece c'è una piattaforma come Ethereum che già layer 1 cioè già la base tecnologica implementa questa facility e però sta soffrendo proprio perché la sofisticazione tecnologica richiesta di smart contract ha reso fino ad oggi Ethereum abbastanza fragile quindi gli smart contract sono l'idea di programmare un pagamento in base a delle condizioni e questo è possibile sia con Bitcoin sia con Ethereum sia con altri crypto vedo altre domande perché ce n'è una messa sì allora Ferdinando guarda ne stanno arrivando un po' io le sto anche un po' centellinando più che altro per evitare di cambiare troppo spesso direzione ma cercherò comunque di integrarle man mano visto che ci siamo spostati hai citato Ethereum quindi insomma ci stiamo spostando anche un po' più sul fronte del mercato delle criptovalute che è probabilmente una delle cose che interessa di più e ti farei comincerei con questa domanda diciamo fino a questo momento abbiamo parlato di Bitcoin che è stata la prima criptovaluta la prima moneta diciamo virtuale dopodiché ne sono nate tanti altre e continuano a nascere e continuano a nascerne tantissime e nascerne e morire tantissime ogni anno allora ti chiedo macroscopicamente detto che poi ci saranno probabilmente tanti casi però che cos'è questo fenomeno questa proliferazione di criptovalute in che cosa si differenziano l'una dall'altra diciamo a livello macroscopico e perché Bitcoin diciamo è diversa dal tuo punto di vista ovviamente ma allora Bitcoin è diversa secondo un altro perché la prima ha il più grande network effect e ha il maggior valore di mercato e rappresenta la maggioranza degli scambi sulle borse affidabili quindi è sicuramente il punto di riferimento Ethereum l'abbiamo accennato proprio perché è il secondo per volumi scambiati badatevi non guardare davvero la capitalizzazione di mercato perché se io metto la Metrano Coin metto 10 miliardi di Metrano Coin siccome Dario un mio amico compra uno a 10 euro non è che la Metrano Coin capitalizza 100 miliardi di euro non capitalizza niente quindi guardate piuttosto ai volumi scambiati i volumi scambiati vedono sicuramente Bitcoin al primo posto e tiriamo al secondo posto il resto io spesso lo definisco charpame tecnologico senza arte ne parte ma siccome vedo che per esempio uno che ci segue cita già Zcash ci sono delle valute che danno una maggiore privacy rispetto a Bitcoin e questo è un tema controverso perché da un lato avrete sentito tutti dire Bitcoin usato per il riciclaggio per il finanziamento del terrorismo se volete ci torniamo ma sono tutte bufale non c'è alcuna evidenza di operazioni di riciclaggio significative che abbiano coinvolto Bitcoin né di finanziamento del terrorismo tramite Bitcoin perché appunto perché Bitcoin è troppo tracciabile lascia delle scie indelebili la sua blockchain il suo libromastro è indagabile anche a distanza di anni anche di decenni e allora qualcuno ha inventato monete invece più private che non lasciano tracce il nostro amico cita Zcash ma Zcash non è ad esempio giusto perché Zcash ha la privacy come optional cioè le transazioni tipiche di Zcash non sono confidenziali solo si possono scegliere di farle confidenziali in certi casi ma come si dice se uno o la privacy è per tutti sempre o se la privacy io la devo usare solo selettivamente questo accende uno spotlight una luce che mi mette in evidenza e quindi non va bene in realtà una valuta molto più come dire riservata è Monero Monero però è una valuta che da un lato ha una tecnologia che non scala la sua blockchain cresce troppo e quindi tra 20 anni per esempio non potrà esistere così come oggi dall'altra però svolge un ruolo di mercato che è proprio quello di lavare il denaro per i piccoli importi che può reggere quella valuta quindi non il cartello colombiano della droga che continua a usare il dollaro statunitense ma magari i piccoli criminali quelli sì è un tema controverso perché ovviamente quelli come me ritengono che bitcoin dovrebbe dare maggior privacy perché per esempio gli atomi d'oro non raccontano nulla della loro storia transazionale il che consente a mia moglie magari di indossare una vera annunziale un atomo d'oro è stato coinvolto in un crimine sanguinosissimo 300 anni fa senza particolari preoccupazioni invece bitcoin rivela tutta la sua storia ma paradossalmente forse questo ne ha permesso la crescita mentre valute più privacy oriented non lo avrebbero fatto poi c'è che ne so ripple ma ripple è emesso da un'azienda quindi è una security e serve per fare pagamenti ripple è un po' come Satispay poi ci sono tentativi di imitare bitcoin come cattivi come bitcoin cash o meno cattivi come l'icoin ma che sono dei cloni senza arte né parte e poi ci sono quelli che vogliono contendere a ethereum la sua leadership appunto come moneta programmabile quindi vediamo cardano vediamo solana vediamo avalanche però sono tutti progetti che sinceramente mi sembrano poco interessanti possono avere un interesse speculativo di breve difficilmente ce l'hanno sul medio e lungo periodo ok dai ti ringrazio anche per la sintesi visto diciamo la vastità dell'argomento ti chiederei che cosa diciamo fatta questa prima panoramica quali sono gli elementi che influenzano le dinamiche di mercato e il valore delle criptovalute perché questo penso che sia diciamo una domanda fondamentale insomma che un po' tutti si fanno come interpretare come immaginare come cercare di prevedere la loro evoluzione visto che appunto se si prende per esempio bitcoin il grafico diciamo dell'evoluzione del suo valore negli ultimi anni anche soltanto negli ultimi 3-4 anni si parte da diciamo livelli adesso se non sbaglio intorno a diciamo poco sotto i 10.000 i 10.000 credo 10.000 euro dopodiché c'è un boom nel 2021 c'è un'esplosione e poi diciamo anche lì forti oscillazioni adesso si sta intorno ai 20.000 si è arrivati a 53.000 insomma le variazioni sono veramente importanti quindi quali sono questi fattori che muovono il valore di bitcoin sì allora facciamo così innanzitutto io uso sempre i prezzi in dollari perché poi è un mercato che è fondamentalmente dollar denominated quindi bitcoin crescia strappi crescia strappi perché evidentemente chi c'è dentro da tanti anni magari quando si realizzano si raggiungono nuove vertici di valore prende profitto vende quindi bitcoin ritraccia poi nuova gente comprende quale può essere la portata di bitcoin entra però se lo vediamo sul medio lungo periodo la crescita è inesorabile ricordiamoci che bitcoin valeva un dollaro nell'aprile 2011 tu ricordavi che valeva 5.000 dollari tre anni fa valeva 8.000 10.000 dollari due anni fa certo io vi faccio perché tento sempre di raccontarlo in una maniera personale io ho iniziato appunto vi raccontavo a seguire bitcoin nel febbraio 2014 quando valeva 660 dollari ed era già in crollo pensate dal dicembre precedente quando valeva 1.200 dollari l'avrei visto arrivare fino a 250 quindi da 1.200 a 250 senza particolari patemi da minimo nel 2018 l'abbiamo visto arrivare a 20.000 dollari e poi scendere a 2.500 nel 2021 l'abbiamo visto arrivare a 69.000 dollari ed arrivare oggi a 21.000 quindi i ricracciamenti sono sempre significativi ma sono sempre superiori al massimo al penultimo massimo e quindi rappresentano una crescita l'idea è quella che se sottolineo se bitcoin e oro digitale oggi probabilmente è ancora grandemente sottovalutato se invece dovesse fallire evidentemente andrà a zero ma quindi la dinamica è quella viceversa che ne so mi permetto di prendere di pescare perché si sposa bene con questo tema adesso la domanda di Francesco Romeo manca un'autorità centrale che garantisce la valuta chi si fa da garante su bitcoin allora posto che abbiamo cercato di dire che non è una valuta più oro digitale da garante su bitcoin c'è la criptografia e la matematica c'è il fatto che certamente bitcoin la scelta il capire il comprendere o l'accettare o il consentire all'idea che bitcoin sia oro digitale è una scelta che fanno le persone e quindi ha tutta la volatilità anche della costanza mancanza di costanza con cui gli esseri umani mettono a fuoco questa idea faccio però degli esempi mia mamma voleva assolutamente le foto stampate dei nipoti finché non le ho regalato un tablet da lì in avanti all'improvviso le foto dei nipoti si fruivano tranquillamente su supporto digitale mio papà quando nel 92 gli raccontavo le meraviglie della posta elettronica mi diceva che poteva interessare l'università ma che nel mondo industriale c'era la raccomandata la raccomandata con la ricevuta di ritorno il fax il telegramma la cartolina cioè eppure oggi abbiamo digitalizzato tutto ecco l'idea è qui non c'è un garante perché così come internet non l'ha inventato un consorzio di telecomunicazioni così come la posta elettronica non è stata inventata da un consorzio di uffici postali così l'oro digitale o la base monetaria del futuro non è inventata ad oggi da un'autorità centrale il che non è detto che non possa funzionare quindi se capisco bene Ferdinando provo a rifrasare diciamo però il concetto il concetto centrale è che appunto diciamo il valore di bitcoin cresce a strappi cioè diciamo ondato in qualche modo e se capisco bene diciamo l'elemento determinante è il livello della domanda che c'è come è normale che sia per il valore di un bene per il valore di qualsiasi bene direi per cui diciamo questo va immagino anche con la consapevolezza oppure l'incoscienza se si vuole guardare diciamo dall'altro dall'altro lato delle persone che credono per il momento progressivamente sempre di più con dei momenti magari di sfiducia temporanei a un asset di questo tipo assolutamente sì il vero problema è che bitcoin ha un'offerta fissa deterministicamente fissata quindi non può adeguarsi alla domanda per cui se la domanda cresce l'unico modo con cui domande e offerta trovano equilibrio è che il prezzo schizzi in alto se la domanda crolla l'unico modo con cui domande offerte trovano equilibrio è che il prezzo crolla però in realtà diciamo la domanda sta crescendo il numero di bitcoin sta crescendo anche esso ma probabilmente ha un ritmo inferiore alla domanda perché ogni 4 anni la quantità di bitcoin che viene messa si dimezza quindi l'emissione rallenta sempre di più ma qui io vorrei chiarire una cosa perché per esempio Patrizia Monica Riva suggerisce che l'andamento del prezzo ricordi quello delle vendite piramidali io qui mi permetto di dissentire in maniera significativa gli schemi piramidali sono schemi in cui gli ultimi arrivati trasferiscono ricchezza direttamente ai primi a chi li recluta e questa cosa prima o poi le cosiddette cadene di Sant'Antonio crollano il bitcoin non è così cioè non è che se Patrizia compra un bitcoin a me entra in tasca direttamente qualcosa quindi certo eventualmente il mio investimento bitcoin si potrà rivalutare ma non è diretto questo è una differenza fondamentale peraltro mai investire in cose che non si comprendono sia perché tanti hanno investito pensavano di investire in bitcoin invece hanno comprato delle porcherie assolute da intermediari poco affidabili sia perché se Patrizia pensa che sia una truffa uno schema piramidale fa bene a starne lontana io ho cercato di far capire che non nasce come una truffa nasce come un esperimento ardito in quanto tale potrebbe fallire onestà intellettuale ammettere questa possibilità ma non è nato per truffare qualcuno e se invece come esperimento dovesse aver successo beh è un esperimento provato a dirlo prima che potrebbe cambiare anche la storia dell'umanità allora nel frattempo continuano ad arrivare ad arrivare tante domande adesso cominciamo a farne qualcuna anche perché sono diventate veramente tante allora un tema che potremmo che potremmo approfondire Ferdinando è è quello della sostenibilità ovvero dei limiti anche che possono esserci in bitcoin Michele Maurizio Michele Zuzero diciamo ne evidenzia uno ne cita uno e bitcoin tecnicamente dice può fare sette transazioni al secondo visa in un secondo di transazioni ne fa 24.000 quindi dice come sarà mai possibile che bitcoin possa diventare una voluta digitale vera con questo limite questa è una domanda a me viene in mente invece un altro un altro limite che è legato alla sua sostenibilità che spesso viene citato che è quello dei costi energetici legati al mining che diciamo è un'attività necessaria per bitcoin e che sappiamo essere sempre più onerosa sì allora sono proprio due aspetti uno è un limite diciamo così tecnologico e vero bitcoin al massimo può fare sette transazioni al secondo visa in realtà dichiara che può reggere picchi di 60.000 transazioni al secondo però intendiamoci questo invalida eventualmente io ne sono convinto che debba invalidare l'idea di un bitcoin transazionale l'idea di una moneta con cui io ci compro il gelato o un chiosco di gelati però vi faccio questo esempio bitcoin sette transazioni al secondo vuol dire che regge 200.000 transazioni l'anno pensate che target 2 sistema interbankable bancario di regolamento di banca centrale europea fa circa 100.000 transazioni l'anno quindi bitcoin facendo 200.000 transazioni l'anno è in realtà già perfettamente carrozzato presso una specie di real time gross settlement system del valore cioè una rete per le grandi transazioni finanziarie per le transazioni finanziarie più significative e sì perché se dovesse affermarsi come oro digitale come network più sicuro al mondo per le transazioni di valore è evidente che ospiterà solo e soltanto le transazioni economicamente più significative diverso è la domanda sulla sostenibilità energetica perché lì ci sono dati che ovviamente spaventano quando si scopre che bitcoin consuma come l'Irlanda o la Danimarca sì però bitcoin consuma come un ventesimo circa di quello che consumiamo noi con i nostri come si dice con l'air conditioning con il condizionamento d'aria di conseguenza questo è un tema che evidentemente va messo in una giusta relazione anche perché bisogna capire i consumi energetici di bitcoin sono proporzionali alla sua sicurezza quindi tanto più bitcoin diventa importante tanto più consumerà perché deve essere sicuro tanto meno diventa importante tanto meno consumerà perché è meno importante e non deve essere sicuro quindi c'è un forte bilanciamento io devo chiedere una pausa tecnica brevissima perché devo collegare l'alimentatore altrimenti si scarica il pc ma torno in un secondo vai tranquillo grazie a tutti Eccovi qua, scusate la gaff tecnica di non essermene accorto prima. Nessun problema. Quindi dicevamo, i consumi energetici di Bitcoin sono significativi, ma sono proporzionali all'esigenza di sicurezza, no? E soprattutto su una scala globale, pensate che Bitcoin consuma un terzo di quello che consumano gli elettrodomestici in stand-by negli Stati Uniti. Ci avete presente quando il vostro televisore ha la rocettina rossa perché non si è spento davvero ma è pronto a ricevere l'impulso del vostro telecomando? Di conseguenza, certo, sono consumi energetici significativi, ma non sono stratospecie. Poi parliamoci chiaramente della sfida della sostenibilità, cioè di passare a energie rinnovabili. Bitcoin in qualche maniera la prende già nativamente per un motivo di mercato. I miner, essendo operatori economicamente razionali, geolocalizzano le loro attività tipicamente dove l'energia costa poco, addirittura gratuita in certi periodi dell'anno. Quindi i bacini idroelettrici e le grandi distese solari del Texas e dell'Arizona, i bacini idroelettrici del Canada e quindi già naturalmente... Quindi c'è una relazione, una complementarità con le energie rinnovabili in qualche modo? Assolutamente sì. Questo diciamo che è anche interessante dal nostro punto di vista anche come possibile tipo di utilizzo dell'energia, perché evidentemente chi possiede noi abbiamo asset idroelettrici, asset fotovoltaici, e si potrebbe anche immaginare. Credo che alcune società energetiche e alcune startup che si occupano di mining o di attività simili stiano sviluppando modelli che in qualche modo integrino queste due esigenze. Assolutamente sì, si parla per esempio di girolocalizzare le attività di mining nei luoghi in cui ci sono surplus di produzione delle rinnovabili, perché come sapete le rinnovabili hanno una stagionalità o comunque una ciclicità, che siano solari, che siano idroelettriche, oppure dove non ce l'hanno per esempio il fracking e quindi il tentativo di prendere le emissioni che andrebbero bruciate semplicemente convertirle in energia per il mining. Tanti tentativi vanno in quel senso e sono interessanti perché sono guidati da considerazioni economiche, quindi non da wishful thinking o buone intenzioni che di solito poi non vanno molto lontane, ma dall'interesse economico di efficientare certi processi. Tra l'altro su questo tema della sostenibilità, Vincenzo Cascio chiede qual è il carbon footprint legato al mining di bitcoin? Non so se su questo hai qualche... Ma io lo dicevo prima, ci sono dati di Cambridge a un istituto dedicato all'osservazione di consumo della rete bitcoin che quindi stima dalla potenza computazionale osservata e dall'efficacia dell'hardware quali sono i costi, i consumi impliciti e appunto li mette in scala. I dati che dicevo prima, un terzo degli elettrodomestici in stand by the user oppure un diciannovesimo, se non vado errato, dei consumi dell'air conditioning globale vengono proprio da Cambridge, quindi anche da una fonte terza. È un carbon footprint, ripeto, significativo, non trascurabile, ma che messo in scala è ragionevole. Bisognerebbe compararlo con carbon footprint, non so, delle banche retail o dei sistemi di produzione e distribuzione della moneta che insomma non saranno sicuramente molto lontani da questi. Ti farei una domanda che è arrivata adesso da poco di Anna Ramella che riguarda un po' il punto di vista della BCE rispetto alle criptovalute. Le criptovalute sono create da una rete di computer e non sono garantite da un'istituzione pubblica. La GARD, appunto il banchiere centrale, ha recentemente messo in guardia marcando le differenze con l'euro digitale. A che punto si è con questo studio? E in generale ti chiederei, Ferdinando, qual è la relazione tra Bitcoin e le banche centrali o gli istituti di credito tradizionali? La relazione controversa, tu accennavi prima antagonista, no? Sicuramente c'è una componente del mondo Bitcoin che è fortemente antagonista rispetto al sistema finanziario tradizionale, ma c'è anche un sistema finanziario tradizionale, mi verrebbe da dire che si è mostrato negli anni antagonista rispetto a Bitcoin. Negli Stati Uniti la cosa è cambiata molto, è cambiata molto anche con la quotazione di Coinbase, la principale borsa dollaro Bitcoin al Nasdaq, perché ovviamente quando tu quoti al Nasdaq quel tipo di attività stai dicendo che quell'attività non è illegale, quindi è uno sdoganamento massiccio, non solo, ma sia la CFTC, quindi l'autority che segue le commodity futures, sia la Security Exchange Commission, seguono da vicino il fenomeno, hanno evidenziato alcune criticità, per esempio, del mondo della centralized finance e degli stable coin, ma non hanno mai messo in dubbio la legittimità dell'investimento in Bitcoin e della legittimità di Bitcoin medesimo. In Europa il clima è invece molto più arretrato, diciamo che culturalmente indietro di almeno 3-4 anni, perché quando si sente Panetta, membro del board di ECB, di espressione appunto di Banca d'Italia, dire al Parlamento europeo ci vuole meno tolleranza nei confronti di Bitcoin, il termine dispiace, perché tolleranza, non so, evoca quasi le case di tolleranza, cioè dei fenomeni paracriminali, no? Oppure la Lagarde che dice Bitcoin non ha valore, non lo direbbe neanche del dollaro dello Zimbabwe, però che cosa dicono questi banchieri centrali? Da un lato una loro diffidenza, una loro preoccupazione, e perché, lasciatemelo dire, tornando ai temi della moneta, non è che per caso siamo in quel momento della storia in cui la moneta non debba più necessariamente essere sovrana? E questo fa paura, lo so, magari fa paura anche a tanti di noi, però io vorrei tranquillizzarvi. Pensate che tre secoli fa si diceva Eius Regio, Cuius Religio, esisteva la religione di Stato. Oggi noi la riteniamo inaccettabile e ne è dovuto scorrere di sangue sotto i ponti, eh, per liberarci da quell'idea. Io penso che dovrà scorrere il sangue, speriamo solo culturale e intellettuale, per accettare l'idea che un domani ci potranno essere monete private che si affiancano a monete governative, in un regime di concorrenza che, guardate, non è che auspica Mitrano, auspica Frederick Kayeck, premio Nobel per l'economia, auspica Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, cioè c'è una linea di pensiero economico culturalmente, oggi sicuramente non maggioritaria, che però vede nel monopolio governativo della moneta un accidente storico che potrebbe essere superato. Di conseguenza, eh, di conseguenza ecco che abbiamo visto Facebook provare a lanciare la sua moneta privata, Libra, no? Poi chiamata Diem, esperimento fallito per l'opposizione appunto dei governi. Quindi, magari tra tre anni si genererà insieme e qualcuno dirà, ah, ci pensate che negli anni 2000 la moneta era solo prerogativa degli stati. Ecco, questo cambierà. Le preoccupazioni sul crimine le ho già indirizzate, ci sono studi scientifici che dimostrano come la percentuale di criptovalute coinvolte in crimini sia bassissima, ben al di sotto del, sia in termini assoluti che in termini relativi della percentuale di crimini che coinvolgono dollari o euro. L'altro aspetto che può preoccupare è la mancanza di regolamentazione. Però, dicevo, in America non è già più così. In Europa il regolatore è colpevole. Il 4 di luglio del 2014, EBA, l'autorità bancaria europea, invita il regolatore nazionale a dissuadere le istituzioni finanziarie dal comprare e vendere e detenere criptovalute. Sono passati sostanzialmente otto anni senza, ah scusate, diceva, in attesa di un quadro regolamentare. Quadro regolamentare che non è arrivato perché il regolatore nel marginalizzare il fenomeno sperava che questo fenomeno si spegnesse, anzi è stato tentato anche dal criminalizzarlo. Il fenomeno non si è spento, l'Europa sta correndo ai rimedi, il Parlamento europeo sta approvando MICA, Marketing Crypto Assets Regulation, quindi una regolamentazione sulle borse di scambio. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha finalmente istituito quel registro dei Virtual Assets Service Provider, in cui operatori come noi, CheckSig, possiamo iscriverci testimoniando in questo Far West, perché il titolo evocava un Far West. Il Far West c'è perché il regolatore ha impedito a Dario di sollevare la sua cornetta telefonica e di chiedere alla sua banca di comprare 20.000 euro in Bitcoin. La banca gli dice no, non si può. E allora Dario deve andare lì fuori, orientarsi tra 650 borse, la maggioranza delle quali gestite da criminali, poi ha il problema di come custodire Bitcoin, perché se li lascia sulle borse, bucano le borse e li perde. Se li custodisce da solo, rischia di perderli lui, o di essere aggredito e vederse di rubare, o, povero Dario, scusami se prendo te per esempio, ma se ti succede qualcosa, come ereditano i tuoi cari, i tuoi crypto asset? E allora ecco, per esempio, noi come CheckSig facciamo appunto compravendita e custodia, aiutiamo i nostri clienti a stare in regola col quadro fiscale, gli facciamo formazione e informazione, quindi facciamo tutto quello che dovrebbero fare le banche e per ora le banche non fanno. Ma che tipo di clienti avete, Ferdiano, giusto per capire il target? I nostri clienti sono persone cosiddette high network individual, in realtà per accedere ai nostri servizi, i nostri servizi sono dai 20.000 euro in Bitcoin in su, oggi facciamo anche custodia e compravendita di Ethereum e probabilmente in futuro anche di altre criptovalute, ovviamente non sollecitiamo, non aiutiamo l'investimento nell'ultima moda del momento, perché non è detto che tra 3-4 anni sia in vita, quello poi è un mondo di trading da cui noi per ora non siamo presenti, che ne so abbiamo una partnership continua di banca profilo, la cui app mobile consente di comprare e vendere criptovalute tramite noi, ma noi ci concepiamo come se fossimo, non siamo una banca, ma come se fossimo una banca private, quindi il cliente viene da noi, noi possiamo comprare e vendere per lui, possiamo detenere per lui, lo aiutiamo a stare in regola con il fisco, lo aiutiamo a stare informato, quindi in un processo che a nostro avviso è salutare, soprattutto se rappresenta un investimento che diversifica il portafoglio, uno investe in equity, investe in azioni, investe in materie prime, certo fino a tre anni fa quando il bitcoin non era finanziarizzato era completamente scorrelato dalle altre classi, si muoveva in maniera completamente indipendente, oggi è molto di più correlato con l'equity e l'azionario, il che non vuol dire che questa sia una cosa corretta, ho cercato di dire all'inizio, io lo vedo più come oro digitale, lasciatemi fare una battuta, investire tutto o comunque tanto o comunque troppo in bitcoin è folle, ma starne fuori completamente in questo momento storico potrebbe essere altrettanto folle. Ma quindi, scusami, giusto per capire, il tipo di asset che voi gestite è unicamente bitcoin oppure gestite portafogli completi, visto che hai parlato anche di correlazioni di diversificazione del rischio, giustamente, quindi diciamo, oppure, oppure, diciamo, i vostri clienti in qualche modo hanno poi un ottimizzatore del portafoglio che, diciamo, cioè voi lavorate su un aspetto, su una parte del portafoglio e lasciate a qualcun altro la gestione del portafoglio nel suo complesso. Noi lavoriamo solo sulla parte cripto del portafoglio, il nostro cliente tipico arriva perché il suo private banker non gli consente di investire in cripto, quindi soddisfa tramite il sistema finanziario tradizionale tutta la locazione standard e poi la percentuale residuale che decide di investire in criptovalute lo fa tramite noi. Quindi questa è un po' la logica con cui ci stiamo muovendo. Potrebbe essere un'evoluzione, però, quella di diventare un asset management. Vabbè, certo. Allora, intendiamoci, ci sono società cripto in America che hanno risolto la licenza bancaria e ci sono tutte le banche americane che sono formalmente autorizzate a fare custodia di beni cripto. Certo, in Europa è diverso e quindi c'è una segmentazione. Diciamo che da ex banker, da un certo punto di vista, io con i miei soci, stiamo immaginando di fare, con lo stile di una banca, quello che una banca dovrebbe fare che per ora in Europa non fa. Beh, quindi, diciamo, da un certo punto di vista è anche un'opportunità, dal vostro punto di vista, cioè il contesto europeo offre, se vuoi, anche un'opportunità maggiore, nel senso che crea delle nicchie, no? Delle nicchie di servizi che probabilmente sono anche più facili per cominciare. Dario, lasciami fare una battuta. Qualcuno dei colleghi Edison che ho rincontrato negli anni mi ha detto ah, Ferdinando, ti avessi un dato ascolto nel 2017. Speriamo che questa non sia un'altra infornata che ci vediamo tra 3-4 anni e dicevano ah, Ferdinando, ti avessimo ascoltato nel 2022. Come sapete, io non posso fare sollecitazione all'investimento, quindi non è questa la mia indicazione, però l'indicazione è quella di confrontarvi con le sfide attuali e di valutare se veramente, informandovi e comprendendo quello che sta succedendo, decidete di starne fuori. A mio avviso non è ragionevole. Se avete bisogno di un accompagnamento, come è stata fatta questa chiacchierata questa mattina, è possibile evidentemente anche accompagnare a soluzioni operative. La pubblicità di CechSig dice i migliori partner per accompagnarvi nel vostro investimento crypto, ma non vorrei fare di questa conversazione una marchetta, ecco, insomma. Di sicuro faremo un altro seminario nel 2027, tra cinque anni, per vedere dove siamo arrivati. Volevo farti l'ultima domanda, per chiudere, siamo alla fine del nostro tempo, ma è più una mia curiosità personale. Adesso, diciamo, un po' con quest'ultimo tema ci siamo avvicinati, però volevo capire, allo stato attuale e poi, diciamo, che so, nei prossimi anni magari sarà più facile, quanto sono rilevanti Bitcoin e le altre criptovalute per le corporate, per le corporate che non siano finanziarie. Quindi è chiaro che per settore finanziario sono un elemento di confronto necessario, ma per una grande corporate come può essere, per esempio, Edison, al di là della, diciamo, della correlazione legata appunto alla vendita di energia per il mining, quello è un tema a parte, ma sono, diciamo, Bitcoin e le criptovalute sono un tema interessante anche per noi? Certamente, il vostro CFO, magari qualche domanda potrebbe farsela, guardando Tesla che ha allocato l'8% della sua liquidità in Bitcoin, io preferisco Tesla, ci sono anche altri esempi, che ne sono MicroStrategy, che è un'azienda, anche essa costata al Nasdaq, azienda informatica, ha investito ancora più significativamente in Bitcoin, però quasi snaturandosi lì in quel caso. In una logica di asset liability management e di gestione anche di rischio cambio, di rischio valuta, a mio avviso Bitcoin ha un ruolo, tant'è che noi tra 140 clienti attuali ne abbiamo 10 che sono aziende, non sono aziende quotate in questo momento, ma in America stanno già arrivando aziende quotate, secondo me è solo questione di tempo che arrivino anche in Europa. Se poi ho un tema come per voi, che avendo a che fare con l'energia, può avere anche una parte di learning proprio industriale, che ne so, qualcuno vociferava di una joint venture tra Eni e Samsung alcuni anni fa per fare una grande solar farm in Africa che facesse mining di Bitcoin. Capite che lì avrebbe un senso proprio di sviluppo in aree depresse, di creare tecnologia e infrastruttura industriale in posti che non possono trasportarla, ma potrebbero efficacemente consumarla proprio per il mining. Quindi ci sono grandi opportunità che vanno ancora prese, sia in senso industriale, sia in senso di allocazione finanziaria genuina. Cioè quello che vale per i singoli, tutto sommato vale anche per le aziende. Sì, sì, no, no, diciamo non si può ignorare, quindi in sintesi gestione finanziaria, opportunità industriali, mi viene da aggiungere anche, questo diciamo è assolutamente così, come dire, potenziale, però perché no, visto che ci occupiamo anche di servizi ai clienti, e si parla tanto di servizi innovativi, si potrebbero anche, diciamo, probabilmente sviluppare dei servizi innovativi in qualche modo correlati a Bitcoin e criptovalute. Molte utility hanno cavalcato per anni l'idea di poter pagare la bolletta in Bitcoin. Per carità, quella mi sembra più una trovata di marketing che non reale, perché poi, come dicevo, la maggioranza dei Bitcoiners non spende Bitcoin, cioè li tesaurizza come investimento. Però è tutto un mondo che si tratti di marketing, che si tratti di strategie industriali, che si tratti di allocazione della propria liquidità, ma guardato con una certa apertura mentale. Ferdinando, io ti ringrazio davvero tantissimo per questa chiacchierata, è stata super interessante e sono sicuro possano dire lo stesso le persone che ci hanno seguito, quindi davvero grazie Ferdinando per questa mattinata. Perfetto, io guarda, lascio anche il mio email se qualcuno vuole contattare, quindi senza problemi, ferdinandochiocciolacexig.com o comunque tanto mi trovate un po' su Google e su tutti i social possibili e immaginabili e con una disponibilità a proseguire il dialogo quando e come volete in qualunque forma. Va bene? Grazie, grazie ancora, sono sicuro che qualcuno si farà vivo. Ringrazio anche Angela, grazie davvero Angela. Grazie a voi per la mattinata. Per la presenza e l'organizzazione, ringrazio anche il mitico Leonardo in regia, che ci supporta sempre e ringrazio insomma naturalmente anche chi ha avuto la pazienza e l'interesse di seguirci e vi do appuntamento insomma alla prossima la prossima digital breakfast a cui stiamo lavorando e che insomma sarà nel mese di luglio. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti